Ho derito a Slow Food perché? Perché sposa un po' quello che è il mio concetto e quello che volevo portare di nuovo nella mia azienda. Io ho un'azienda agricola, biologica, in particolare ho tre ettari di biologico, produco ortaggi stagionali senza l'utilizzo di serre, di prodotti chimici e tutto quello che prevede un disciplinare di agricoltura biologica. E Slow Food perché l'ho sposato? Tornato dalla laurea, sono anche un agronomo, sono tornato qui in zona da noi e ho conosciuto Slow Food e proprio il fatto di avere alle spalle una società che possa condividere il mio stesso pensiero e aiutarmi in quello che faccio ecco che c'è stato questo sposalizio che mi trova anche nelle iniziative che vengono organizzate da questa associazione a parteciparli e a dare il mio contributo per quello che posso per valorizzare soprattutto il nostro territorio e i prodotti di cui questo è vocato a fare, a produrre. La mia azienda produce ortaggi di vario tipo, dicevo prima stagionali, in particolare è vocato per la produzione del carciofo che è un prodotto autoctono e vocato proprio in queste zone, soprattutto nella zona di Sezze dove si trova la mia azienda. Grazie.